Continuiamo con la riflessione sulle nozioni e siamo dunque alla questione 32, articolo 3. Sembra che le nozioni non siano 5. È inutile che iniziamo con le argomentazioni e vediamo immediatamente il pensiero di Tommaso d'Aquino dove sì, effettivamente, anche nel set contra, non si trova in sintonia, quindi questi set contra potrebbero aggiungersi alle altre argomentazioni. Il pensiero è questo. Si chiama, attenzione sempre alla definizione del lessico, si chiama nozione, la ragione formale, formale, che serve a conoscere una persona divina. Nozione, la ragione formale. E come io faccio a conoscere una persona divina? Beh, ma è un po' sotto una prospettiva analogica come possiamo conoscere in qualche modo un essere umano. da dove arriva, dove ha intenzione di andare, con chi vive, quali sono i rapporti interpersonali che intercorrono tra questa persona e altre persone. Perciò, ora, la pluralità delle persone dipende innanzitutto dall'origine. Il concetto di origine importa un principio e un termine. Abbiamo principio e termine definiti in termini latini, teniamoli pure, e da questi due lati si può conoscere una persona. È un po' come un segmento, dobbiamo definire gli estremi. È un po' come un triangolo, dobbiamo definire quali sono i triangoli. Abbiamo detto, per un essere umano, da dove arriva, dove va, quali sono i suoi rapporti interpersonali. Allora, la persona del padre ha una ragione formale che è l'innascibilità, cioè non procede da altro. Dall'altra parte, qual è il termine? È la paternità. Dall'altra ancora, è un'aspirazione comune con il figlio nella produzione dello spirito. Quindi, sul padre abbiamo, come voi vedete, tre nozioni o ragioni formali. Figlio. Figlio, abbiamo la filiazione, deriva dal padre, generato dal padre, e l'aspirazione comune col padre nella produzione dello spirito. E lo spirito è definito dalla processione. Quindi, come voi vedete, innascibilità, paternità, aspirazione comune, filiazione, processione. Sono cinque. Cinque nozioni, che sono queste, le abbiamo viste. Di queste, però, attenzione, solo quattro sono relazioni, perché l'innascibilità non pone una relazione con nessuno. E tre, soltanto, sono nozioni personali. Da questi rapporti, da queste, come abbiamo definito, ragioni formali, noi definiamo la paternità, l'affiliazione e la processione. Detto questo, passiamo alle argomentazioni che vorrebbero sostenere altro. Guardate, come al solito vi dico, non solo in menzione di Tommaso, probabilmente furono degli argomenti sui quali Tommaso si dovette confrontare nelle varie, nei vari confronti, che è anche all'università. Le nozioni proprie delle persone sono le relazioni, che le distinguono, ma queste sono soltanto quattro. Dunque, anche le nozioni sono solo quattro. Allora, a questa argomentazione Tommaso non risponde direttamente. Come voi vedete, dice semplicemente, guarda, che oltre alle quattro relazioni bisogna ammettere, come si è spiegata, l'altra nozione, che è l'innascibilità. Cerco io di rispondere, perché la risposta c'è, è semplicemente talmente evidente che non è stata in questo articolo esplicitata in modo sufficiente. Non è che tante relazioni, bene, abbiamo tante persone. pensate per un momento, Luigi, papà, Mario, Andrea, figli. Tra Luigi e Mario, tra Luigi e Andrea, abbiamo un rapporto dalla parte del papà di paternità, dalla parte dei due di figliolanza, dalla parte dei due che sono stati generati a un rapporto di fraternità. Voi capite che i rapporti sono uno, due, tre, quattro, cinque. Con queste le persone sono tre. Papà e i due figli. Non è che le relazioni, tante relazioni, tante persone, non ha senso. Più relazioni ci sono, più noi possiamo comprendere meglio la persona, ma non è che tante sono relazioni, tante sono le persone. Seconda argomentazione. Se dunque in Dio vi sono cinque nozioni, dovrebbe dirsi cinquino, ma questa è inammissibile, una stupidaggine, fa sorridere, però probabilmente se è stata riportata qualcuno, allora portò a Tommaso questa obiezione. E la risposta è sempre la stessa. Se vi sono cinque nozioni, vuol dire che ci sono cinque relazioni, e non vuol dire che siano cinque le persone. Le persone rimangono tre, padre, figlio e spirito, dove troviamo delle relazioni che le definiscono. Terza argomentazione. Se essendo tre le persone, le nozioni sono cinque, è necessario che in qualche persona vi siano due più nozioni. Beh certo, nel padre addirittura ne abbiamo tre. Abbiamo detto la, come la chiama esattamente, abbiamo vista l'inascibilità, la paternità e l'aspirazione. Nel figlio ce ne sono due, nello spirito santo ce ne è una. Però, dice, queste tre nozioni differiscono realmente o concettualmente. Se differiscono realmente, allora la persona del padre è composta di più cose. Questa non va. E su questa riflessione possiamo anche essere d'accordo. Se differiscono soltanto concettualmente, allora una si potrà predicare dell'altra. E come diciamo che la bontà di Dio è la sua sapienza, l'aspirazione comune è la paternità. Cioè, vi ricordate che abbiamo detto in Dio c'è l'unità profonda, quindi la giustizia è misericordia, la misericordia si può definire giustizia. Allora, in questa prospettiva, noi possiamo dire che la paternità è uguale all'affiliazione o all'inascibilità. non è così perché ci fa notare Tommaso che più proprietà di una stessa persona chiaramente non si distinguono realmente perché tra loro non esiste opposizione e relazioni. Tuttavia, non si predicano l'uno dall'altro. Io non posso dire che è l'affiliazione uguale alla paternità perché stanno a indicare formalità diverse della stessa persona. Non stiamo toccando, come al solito, l'essenza. C'è semplicemente una definizione vista sempre nella prospettiva umana, quindi una prospettiva analogica, che ci vuole definire il ruolo di ciascuna persona. Quindi non ha senso nella prospettiva umana dire che la paternità è uguale a filiazione, ma secondo me non ha neppure senso nella prospettiva umana dire che la giustizia è uguale alla misericordia perché la misericordia per l'uomo vuol dire una certa definizione di Dio e la giustizia ne vuole dire un'altra. Anche se poi in Dio questi due attributi si identificano, l'uomo non ha la conoscenza intuitiva e immediata dell'essenza divina. Quindi la conoscenza è discorsiva e quindi noi formalmente dobbiamo distinguere le due proprietà concettualmente e cercarle di capire, altrimenti unifichiamo tutto e unificando tutto non capiamo più nulla. Mi pare che sia evidente. D'altra parte negli stessi testi sacri viene messa in evidenza ora la misericordia, ora la giustizia. Nei testi sacri non si identificano questi due aspetti. Anche se noi di una prospettiva filosofica, teologica, possiamo dire che una è uguale all'altra. Ma qual è la prospettiva divina? Non è la nostra prospettiva umana. Andiamo al set contra che è questo. Pare che siano più di cinque queste persone. Infatti, come ammettiamo la nozione di inascibilità, così si deve ammettere una sesta nozione. Per il fatto che dello Spirito Santo non procede un'altra persona, quindi potremmo dire che lo Spirito Santo ha una nozione di non generazione. Ma giustamente dice Tommaso dello Spirito Santo non procede da lui altra persona, non conferisce nulla alla sua dignità. Come? All'opposto, mette in evidenza l'autorità del Padre di non essere da altri. Questo non vuol dire che lo Spirito Santo abbia meno dignità del Padre. Però noi dobbiamo mettere in evidenza quello che caratterizza una persona. Io aggiungerei anche e mettere in evidenza le relazioni tra le persone. Ora, il fatto che lo Spirito Santo non generi null'altro non è una relazione. Qualcuno potrebbe dire ma anche il Padre non è in relazione con nulla nella sua inascibilità. Ma questo è un argomento che verrà affrontato in seguito da Tommaso. Vediamo l'altro pensiero come è comune al Padre e al Figlio che da essi procede allo Spirito Santo così è comune al Figlio e allo Spirito Santo il procedere dal Padre. No, non è comune perché sono due processioni completamente differenti. Una è l'aspirazione e l'altra è la generazione. Quindi partiamo già con Piede sbagliato. Perciò come si ammette lui dice una nozione comune al Padre e al Figlio e l'aspirazione comune così se ne deve ammettere anche una comune al Figlio e allo Spirito Santo la comune processione. Ho già dato una risposta la processione comune che ci genera Figlio e Spirito ma non ha fondamento questa osservazione perché la processione dal Padre al Figlio e la processione congiunta di Padre e Figlio che ci porta lo Spirito Santo sono processioni differenti. Infatti lo stesso Tommaso ci dice il Figlio e lo Spirito Santo non hanno in comune un unico e speciale modo di essere originati dal Padre. Come al contrario il Padre e il Figlio hanno in comune un modo speciale di produrre lo Spirito Santo perciò il paragone non torna. Abbiamo poi l'articolo 4 Videtur sembra che non siano permesse opinioni contrastanti circa le nozioni o si parla di paternità filiazione generazione eccetera oppure si entra nello stato di eresia. Tommaso spiega con molta cautela questo pensiero dicendo una cosa può appartenere alla fede in due modi primo direttamente in qualità di oggetto principale della rivelazione divina come l'unità e la trinità di Dio l'incarnazione del figlio di Dio e simili bene chi non crede in queste verità si trova nello stato diaretico e attenzione a proposito del pensiero diaretico che chi c'è chi va a cercare l'etimologia l'eretico colui che ricerca secondo la terminologia greca no qui eresia è inteso come colui che spezza l'unità della fede e quindi spezza il corpo mistico di di Cristo perché noi facciamo parte di questo corpo mistico e nel momento in cui la nostra fede non è unita ecco che ci troviamo a credere cose differenti e questo è male quindi non cerchiamo adesso di capovolgere il senso delle cose andando a cercare delle etimologie che noi non stiamo più utilizzando cioè eresia per noi è una frattura nel corpo mistico di Cristo quindi non cerchiamo adesso di utilizzare questo vocabolo per dire guarda che chi è eretico è colui che si è messo alla ricerca per percorrere una strada alternativa sono tutte storie solo per confondere le idee indirettamente può diventare eretico e qui rientra la riflessione sulle nozioni indirettamente invece appartengono alla fede quelle cose dalla cui negazione deriva qualche conseguenza contraria alla fede quindi negare le nozioni di cui abbiamo detto se l'effetto può arrivare a negare dei fondamenti di fede allora si è l'eresia altrimenti non c'è eresia infatti chiarisce proprio Tommaso questo pensiero perché qualcuno potrebbe giustamente osservare nella storia del cristianesimo ma scusate prima porsi in questo modo non è eresia poi in un secondo modo in un secondo momento questa posizione è diventata eresia vedete che anche la chiesa cambia nelle sue posizioni e nei suoi giudizi non è così è che in un primo momento non si era ancora colto la gravità di quella posizione non si erano ancora colto gli effetti negativi e eretici che erano quindi divisori in un primo momento e in un secondo momento ci si è accorti che da certe premesse si arrivava delle conseguenze che erano conseguenze eretiche per cui a un certo punto quel pensiero diventava un pensiero eretico anche se indirettamente eretico vediamo cosa dice Tommaso ma se è chiaro e specialmente se è stato determinato dalla chiesa che da tali idee deriva qualche cosa lì opposta alla fede il ritenere sarebbe eresia per questo molte sentenze che prima non si ritenevano eretiche ora lo sono perché adesso si vedono più chiaramente le conseguenze che ne derivano all'inizio del secolo del millennio cristiano quindi primo secondo terzo secolo quando non c'era ancora chiaro questo rapporto tra padre figlio e spirito è evidente che a certe posizioni non erano considerate eretiche poi con il concilio di Nicee con i concili successivi quando ci si rende conto di che cosa si dice quali sono gli effetti di certe posizioni allora non si può accettare tutto e si deve chiaramente indicare al fedele guarda che se tu inizialmente pensi di sostenere questa idea incorri poi in conseguenze che sono eretiche quindi questa posizione è eretica perciò si deve concludere che anche circa le nozioni alcuni senza pericolo di eresia hanno potuto seguire opinioni contrastanti non essendo essi non avendo essi l'intenzione di sostenere conciò nulla di contrarre la fede se però qualcuno ne avesse un'opinione sbagliata avvertendo che le deriva qualche cosa di contrarre la fede costrui cadrebbe in eresia quindi non è un giudizio assoluto quello di Tommaso e con molto equilibrio proprio come Tommaso d'Aquino sempre ha fatto definisce effettivamente il pensiero che definisce un credo eretico adesso vediamo le argomentazioni qui portate Sant'Agostino dice che in nessun altro caso è tanto pericoloso l'errore come in materia di Trinità ne abbiamo già parlato ricordatevi che Agostino aveva scritto De Trinità della quale materia certamente appartengono le nozioni però e vale per tutte le argomentazioni la risposta di Tommaso è più che mai chiara infatti nella soluzione delle difficoltà per la prima volta troviamo con ciò risulta evidente la risposta alle difficoltà con ciò che cosa corrisponde seconda argomentazione mediante le nozioni si conoscono le persone come abbiamo spiegato ma circa le persone non è recito seguire opinioni contrarie circa le persone ma sulle nozioni potrebbe anche esserci chi sostiene strade opinioni prospettive differenti il set contra negli articoli di fede non vi è nulla che riguardi le nozioni dunque a proposito di nozioni è recito pensare in un modo o in un altro infatti gli articoli di fede ci dicono tre sono le persone padre figlio e spirito la trinità è unica benissimo quindi unica sostanza tre persone se poi non siamo d'accordo sulle nascibilità sul rapporto di generazione di figliolanza di ispirazione beh su questo possiamo anche discutere con questo abbiamo concluso la questione 32 a due